buona sera a tutti benvenuti all'appuntamento del sabato con il TMW News tanti temi da affrontare andiamo subito a salutare dunque Franco Zuccalà ciao Franco buonasera salve ciao come va tutto al posto bene bene è stata una settimana intensa dal punto di vista calcistico eh è stata una settimana intensa perché volevo ripartire da te per sentire il tuo parere anche su queste liti abbastanza frequenti tra allenatori a fine gara in particolare la Juventus si è resa protagonista di vari episodi di questo genere sia con Allegri sia con il vice di Allegri Landucci eh sì sai quando le cose non vanno esattamente come si pensa è un po' tutti perdono la testa un po' l'uno un po' l'altro a seconda dei risultati e siccome questi risultati quest'anno sono altalenanti ecco che scoppia il nervosismo una sola squadra può essere contenta quella che vince bisognerebbe cercare di mantenere i toni un po' più eh nell'alveo della comunità dell'educazione scusami perché eh in effetti non sono dei buoni esempi ma certamente la partita dico no no sì ma sai c'è il nervosismo c'è un po' tutto perché poi questi in definitiva gli allenatori sono dei manager che hanno in mano le sorti non solo di una squadra di calcio ma di un'azienda con tutto quello che comporta anche dal punto di vista economico. Senti per quanto riguarda la Juventus è stata una settimana negativa perché c'è stata l'eliminazione dalla Coppa Italia in più si continua a parlare di una possibile esclusione dei bianconeri eh dall'Europa perché l'UEFA potrebbe prendere eh dei provvedimenti legati proprio all'esclusione dalle coppe per il prossimo anno. Ma questo bisognerà vedere perché non so se l'UEFA conviene se convenga a far 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 fuori una società che ha un seguito notevole ma comunque vedremo se c'è un regolamento se c'è qualche regola che noi non conosciamo sentiremo un po' cosa deciderà Ceferin e tutti i suoi eh così i suoi consiglieri. E per quanto riguarda questa eliminazione dalla Coppa Italia la Juventus è sembrata contro l'Inter poco determinata, poco convinta, incapace di creare situazioni da gol. Ma sai quando hai un cannoniere che si chiama Vlaovic e non segna ci sono delle difficoltà perché Di Maria sia un giocatore abbastanza bravo che ogni tanto riesce a metterla anche dentro. Chiesa ancora si sta riavendo dall'incidente dal lungo infortunio e quindi mi sembra che davanti siano piuttosto carenti. Per quanto concerne invece la difesa sta cominciando a mostrare qualche crepa eh forse perché non c'era Bonucci o forse perché c'era Bonucci lì nei pressi non lo so lì come vanno le cose perché io questa esclusione di Bonucci che va e viene dalla squadra ha avuto qualche problema fisico indubbiamente ma mi fa pensare. Ecco è una Juventus che dovrà vedersela domenica sera contro il Bologna un Bologna che è stato protagonista di un ottimo campionato anche se è reduce da questa sconfitta un po' in attesa contro il Verona. Ma sai il Verona è una squadra che sta cominciando a risalire molto velocemente la corrente vedremo se riuscirà ad acciuffare o addirittura superare lo Spezia. Mi sembra che abbia dei buoni giocatori e che rieve adesso da quando hanno cambiato la guida tecnica hanno cominciato a lavorare un pochino molto più allacremente sono riusciti a fare qualche buon risultato nelle ultime quattro partite non hanno mai perso e questo ci indica che è una squadra che possa salvarsi prima o poi. E il Bologna invece? Il Bologna ha avuto dei momenti buoni ma naturalmente senza questo Arnautovic che un po' era stato capocannoniere nelle prime 6-7 giornate poi a un certo punto è sparito perché si è infortunato poi forse c'è anche dell'altro e si parla comunque in ogni caso anche di un passaggio alle altre squadre. Si parla anche del Milan per Arnautovic. Ma sai bisogna vedere se Giroud riuscirà a resistere perché è un giocatore di una certa età e forse ce ne vuole qualche altro di rinforzo per potere così fare una buona coppia con Leao che ha delle caratteristiche eccezionali a quanto si è visto nelle ultime partite. Senti domenica ci sarà Interlazio crocevia per la Champions? Crocevia di tante cose della Champions, dello scudetto del Napoli e del fatto che bisogna finalmente stabilire se Inzaghi resterà se verrà così travolto da eventuali insuccessi nelle coppe specialmente in Champions visto che la Coppa Italia dovrebbe poter andare a non dico avanti perché ormai alla fine alla finale voglio dire vincere anche la Coppa Italia. È l'uomo di Coppa, il re di Coppe come è stato chiamato ma basterà ai tifosi dell'Inter e soprattutto ai dirigenti per confermarlo? Questa è una grande domanda, bisognerà ancora aspettare. Certo è che comunque se dovesse rimanere fuori dalle prime quattro delle riflessioni profonde andrebbero fatte perché è un Inter che se si guarda la rosa deve stare nelle primissime. Se non dover vincere lo scudetto dovrebbe essere di a ridosso, dovrebbe essere di a ridosso del Napoli. Sì però è un po' comico che una settimana alle stelle e un'altra settimana alle stalle. Bisognerebbe avere una condotta lineare da parte di tutti, compresi noi critici. E la Lazio che ha tutto sommato avuto un andamento abbastanza regolare è però reduce da questa sconfitta contro il Torino in campionato? È stata un po' una sorpresa comunque la Lazio è una squadra che ha miglior difeso insomma alla pari mi pare con un'altra formazione e poi se ritrova il miglior immobile certamente potrà andare avanti al secondo posto come si prefigge Sarri. Se immobile avrà ancora qualche problema io non so se ce la farà. Senti si è discusso tanto in questi giorni intorno a Napoli Salernitana che alla fine è stata spostata a domenica si doveva giocare inizialmente di sabato. Senti sono sempre speciali, hanno sempre dei problemi che risolvono in maniera sempre brillante. In questo caso ha avuto ragione De Laurentiis che evidentemente ha avuto l'appoggio di tutte le autorità napoletane. D'altro canto bisogna tener conto che Napoli vince una volta ogni trent'anni e quindi non è un momento voglio dire normale. Questo ha eventi eccezionali, provvedimenti eccezionali. Senti Spalletti è il caravaggio del calcio come ha detto Walter Sabatini in un'intervista? Ma sai Walter Sabatini è immaginifico come tanti di noi giornalisti e quindi Caravaggio o qualche altro pittore. Spalletti è stato uno che ha fatto sempre delle buone cose però non ha vinto mai. Stavolta ci è riuscito e quindi viva Spalletti. Il tuo pittore preferito qual è per fare un paragone con Spalletti? Il mio è più moderno, così Picasso. Io preferisco questi vecchi quadri dove si vedono re, regine eccetera oppure santi arcangeli e angeli. Insomma appartengono al passato. Invece sono modernista ecco. Però ecco il paragone Spalletti-Picasso non ce lo vedi? Ma bisogna vedere perché sai a Napoli sono tutti degli artisti e Spalletti se non lo è lo diventerà. Eh sì, probabilmente al movimento della conquista e allo scudetto credo che poi ci possano essere anche diversi murales quantomeno che lo ritrarranno da protagonista. Beh vicino magari a quello di Maradona io ho delle immagini dalla televisione di quando Maradona, l'abbiamo vista del resto anche in questo periodo di Maradona che è questo murales bellissimo che c'è a Napoli. Chissà che magari Spalletti non trovi un posto come nel, così, in mezzo le gallerie d'arte c'è sempre il quadro moderno che viene piazzato lì e può darsi che Spalletti trovi posto nella galleria napoletana. Comunque questo scudetto secondo te quanto vale rispetto agli altri due che sono stati conquistati dal Napoli? Si può fare un paragone, un confronto tra i vari scudetti? Guarda io ho preparato il pezzo dello scudetto del Napoli come tutti noi li facciamo prima e ho detto che questo è stato uno scudetto del gruppo perché quando c'era Maradona c'era Maradona e quindi bastava lui per vincere. Adesso non c'è più Maradona ma ci sono tanti buoni giocatori che hanno portato il Napoli a questo scudetto. Quindi insomma Maradona è chiaro che evoca grandi emozioni, grandi ricordi e anche alla sua figura sono legati strettamente quegli scudetti perché comunque è stata la figura di riferimento assoluto per i tifosi partenopei anche. Lui è stato uno dei due tre giocatori più forti del mondo, forse più forte mettiamo Pelé, mettiamo Cruyff come altri esempi e quindi giustamente ha vinto quasi da solo perché sono andato a vedere quella formazione insomma c'era Careca, c'era Carnevale, c'era Ferrara in difesa, c'erano altri ma tutto sommato quello che attraeva le attenzioni generali e quindi anche degli avversari era Maradona e Maradona la spuntava sempre. Adesso invece tutta la squadra perché sì Osimian segna ma c'era Quara, Vara, c'era anche ci sono altri giocatori che danno lo bot, tanto per fare dei nomi che costituiscono un ensemble molto importante e capace di surclassare tutti gli altri. Guardavo nelle classifiche mi pare che quasi nessuno, neanche il grande Torino ha vinto con tanto di stacco, solo l'Inter del triplete ha vinto con 22 punti di stacco lo scudetto ma il Napoli si accinge a fare un'impresa abbastanza valida, abbastanza simile a quella dell'Inter. Ecco, restando sul confronto tra questo scudetto e quelli precedenti vinti dal Napoli c'è anche chi ha sottolineato che in tempi passati gli avversari del Napoli erano diversi, insomma il Milan con cui si è battuto e il Napoli negli anni 80, tra gli anni 80 e gli anni 90 era molto più forte, insomma rappresentava un ostacolo duro, serio, ecco senza nulla togliere ovviamente alla conquista dello scudetto di questo Napoli. Erano i tempi della mia televisione, quando io ero in televisione e seguivo, stando a Milano seguivo il Milan, seguivo l'Inter dei record, insomma gli avversari erano più consistenti di oggi e infatti il distacco che c'è tra il Napoli e le altre squadre lo evidenzia in maniera chiara. E in quegli anni spesso eri sul campo pronto per intervistare l'allenatore che aveva conquistato lo scudetto? Sì, in qualche maniera io e Pizzolo abbiamo inventato il ruolo del bordo campista che è successo così, eravamo a Chicago con la nazionale per una tournée prima del mondiale e abbiamo visto che a bordo campo c'era un microfono con un filo e abbiamo chiesto ma che serve questo microfono? Dice noi qui in America intervistiamo i giocatori durante il dopo quando escono insomma durante la partita e quindi abbiamo messo questo microfono. Allora Pizzol che si fumava la sua sigaretta ogni tanto si sentiva si sentiva l'accendino durante le telecroniche lui accendeva e allora ha detto guarda io mi fumo una sigaretta tu intervista i giocatori e io cominciai con Donadoni. Eh sì per non parlare poi di tutti gli allenatori. Ma quella fu la prima volta capisci l'invenzione un mio collega che mi è che è arrivato dopo è diventato bordo campista si è così formalizzata questa figura e una volta le figlie di questo mio collega che era varriale lo sanno tutti le suore hanno chiesto alle bambine alle sue figlie ma scusa cosa ha fatto papà? Dice il bordo campista che vuol dire? E allora lì è nata la storia del bordo campista che ha fatto riferimento anche a te. Sì sì ma questo risale ovviamente a quasi 30 anni fa quindi un aneddoto sai io faccio giornalista da più di 60 anni e quindi ho avuto la mia parentesi televisiva ma io sono stato particolarmente nei giornali per tanti anni. Il prossimo appuntamento importante che ti vedrà protagonista da un punto di vista lavorativo da un punto di vista anche proprio di reportaggio visto che ne hai fatti tanti cosa c'è adesso in pentola? Cosa vuole in pentola? Sul piano della scrittura sto raccontando la differenza sto facendo un libro se riesco ma non chiederò a nessun editore lo faccio per me su quell'evoluzione della nostra professione io vengo dal giornalismo dei caratteri mobili del giornalista in tipografia voglio dire dal giornalismo della pellicola alla televisione e quindi ho visto tutte le fasi adesso tra poco faremo i giornali col pensiero. È vero in effetti si arriverà proprio a quello. Franco grazie come sempre buona giornata. Adesso altre considerazioni sull'Inter che dovrà giocare su vari fronti in campionato per conquistarsi il posto Champions in Champions è attesa dal doppio confronto con il Milan e poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia al 24 maggio contro la Fiorentina. Su questi temi sentiamo Bruno Longhi voce storica di Mediaset è intervenuto a Radio Firenze Viola. Qualche calzatore tipo Lukaku che è cresciuto non è ancora Lukaku di due anni fa francamente però è un Lukaku che per l'infortunio e per tutto ciò che è accaduto diciamo ad un certo punto quando è rientrato in campo era un Lukaku al 30-40 per cento rispetto a quell'altro. Adesso si sta ritrovando si sta avvicinando un 65-70 per cento ma questo vale per un giocatore vale per Dzeko che sembrava quasi in apnea nelle partite antecedenti quella di ieri sera con la Juventus. In generale l'Inter ha perso tanti punti ma non è una squadra che ha perso punti in relazione alla pochezza di ciò che ha espresso. L'Inter ha sempre espresso tanto. Il fatto è che molte partite si è fatta carachiri partite da vincere comodamente e non da vincere di misura e poi le ha perse e chiaramente i numeri mi rifaccio al campionato sono questi impietosamente nei confronti dell'Inter. Adesso c'è questo finale che deve cercare di dirci tutta la verità nient'altro che la verità sulle milanesi perché le milanesi francamente non si aspettavano di trovarsi a questo punto a prescindere dal Napoli messe sotto da dei Romani e tra l'altro siamo alla vigilia di questa doppia sfida tra Roma-Mena e Inter-Lazio. Però l'Inter che non ha mai avuto carenze a livello di gioco di proposizione di pallegol perché ne ha creati tantissime. È un discorso che è stato fatto a lungo, che è stato esaminato, non ha trovato soluzione, mentre invece nelle partite cosiddette secche perché anche quella di Ieri Sera è una partita secca, si giocava tutto in 90 minuti alla luce dell'1-1 dell'andata, la squadra ha risposto presente e gioca contro, giocherà, di contro una fiolentina che se non fosse incappata in queste due disavventure, 2-0 con Monza e 2-3 e a trovarsi addirittura sullo 0-3 contro il Lecce Poznan, era una squadra che arrivava, non so se fossero stati 15 risultati positivi e 9 addirittura, 15 erano? 15, si è fermata a 14. E 9 le vittorie di fila in conference, perché una squadra che dopo gli stenti dell'inizio della stagione ultimamente era una squadra che esprimeva forse il miglior calcio di tutto il campionato. Siamo così alla conclusione per quel che riguarda l'edizione di quest'oggi del TMW News, grazie a tutti, buon proseguimento di serata.